Allo stacco Piper B dall'esterno incontra l'opposizione di Primera Font tra i due Pergil Gemon SM, poi Pietro e allargo Pivot Griff. Scende alla corda Piper B dopo 200 metri in 13.8, guida lungo l'arco della prima curva. Primera Font in seconda posizione precede Pergil Gemon SM e allargo il favorito Pivot Griff. Poi lungo Ibirilli, quarto in corda c'è Pietro 29.7, 400, via via tutti gli altri. Davanti alle tribune arriva Pivot Griff che chiede strada a Piper B. Gradualmente lo supera, passa dopo 600 metri in 44.2 con Pivot Griff in vantaggio ma spendendo qualcosina Piper B in seconda posizione. In terza c'è Primera Font, poi Pergil Gemon SM, risale allargo Pepita Barra pedinata da Paola Radcliffe a Chiu. Metà gara veloce in 59.7, non lesia l'andatura Pivot Griff che affronta in vantaggio il penultimo rettilineo. Piper B sempre in seconda posizione precede Primera Font, si avvicina Pepita Barra all'altezza del primo chilometro trottato ed 1.15. Pivot Griff in vantaggio, Primera che passa seconda sul galoppo di Piper B. Poi Pepita Barra e Paola Radcliffe a Chiu, ai tre quarti di miglio rifiniti da Pivot Griff in 1.31, ancora 15 di là. Pivot Griff in evidenza, due e mezza meglio di Pepita Barra che affianca Primera Font pedinata da Paola Radcliffe a Chiu. Dal gruppo emerge Pietro quando i cavalli entrano in retta d'arrivo. Pivot Griff che è richiesto con la frusta a 150 miglio al termine. Pepita Barra sul passo, poi Paola Radcliffe a Chiu, il leader in crisi, arriva Pepita, arriva Paola Radda, Pepita che è passata, Pepita Barra che nel finale si afferma su Paola Radcliffe a Chiu. E al terzo posto Pivot Griff, 2.1 abbondanti, 31.1 la chiusa, 1.15.7. La media al chilometro, Giuseppe Caramia da guidatore e allenatore di questa potente figlia di Zinzan Bruccatore, è arrivato il primo piazzamento al quinto tentativo. Due settimane fa, ma oggi una gran bella vittoria di questa Pepita Barra, un plane di scuderia con il secondo posto di Paola Radcliffe a Chiu. Al terzo Pivot Griff, forse con una prima parte di gara molto molto movimentata. Numericamente dunque l'arrivo della prima dice 12-10-6. La bella vittoria di Pepita Barra e Giuseppe Caramia.